Sshhh! Da! L'ascensore è proprio dietro l'angolo! Ok ragazzi, attendiamoci al mio piano e non falliremo. Ci dividiamo al 3, 2, 1... Non era l'ascensore. Non proprio. La prima fiala con l'antidoto è quasi brutta. Inizio la procedura di rilascio della tossina. M.C. Mickey. M.C. Wickey Wickey. M.C. Wickey Wickey. Sshhh! Pronti? In posizione. Ehi, Mickey. Ricordi cosa dicevi quando eri piccolo? Mi hai fatto promettere di non dirla a me più! Beh, come non detto! Ti ricordi ancora come faceva? Ve la sono tenuta dentro per anni! Ragazzi, ci serve un piano! CWABANGA! Abbiamo un 10.53, chiamano detriti dall'edificio. Andiamo. Ci siamo. Ehi, aspetta. Ci penso io, ragazzi. È mio. Batti sotto. Non vincerei tu. Sono serio. Voi due siete adorabili. Davvero, vorrei pizzicarvi le guance. Ragazzi, sta arrivando, sta arrivando! Ragazzi! No! Tienimi! Tienimi! Ragazzi, ragazzi! Ragazzi! Grazie a tutti.